Premio internazionale buone pratiche sezione informazione redazione va a Mauro Salerno capo servizio del quotidiano digitale enti locali ed edilizia del sole 24 ore Mauro Salerno che opera in ambiti specialistici collabora anche con l'agenzia di stampa Radio Corp Plus contribuendo con il suo lavoro in modo determinante a creare un clima di dialogo di sereno confronto e reciproco arricchimento. Un applauso Grazie, grazie mille agli organizzatori di questa importantissima manifestazione io sono davvero onorato di ricevere questo premio, un riconoscimento che va in qualche modo alla qualità dell'informazione trovo che sia davvero una straordinaria idea quella di premiare chi svolge con passione e professionalità questo mestiere al di là della soddisfazione per il riconoscimento personale penso che sia in questo momento importante per tutti avere qualcuno che ci segnala degli esempi positivi soprattutto in questa fase di crisi che perdura ormai da un po' di tempo ovviamente se diciamo la parola crisi pensiamo in questo momento immediatamente agli scenari internazionali io penso invece a quello che mi riguarda più direttamente che è il mondo del giornalismo è un mestiere che io amo profondamente ma che rischia invece in questo periodo di naufragare ogni giorno un po' per colpa della fragilità economica in cui versano tantissime testate anche gloriose storiche che di anno in anno, non ce lo dobbiamo dimenticare, prolungano gli stati di crisi e sono in difficoltà e dall'altra anche perché ci troviamo a confrontarci con l'ascesa dei nuovi media soprattutto con i social e la difficoltà di confrontarci con i nuovi media non è facile soprattutto se pensiamo di dibattere questa concorrenza puntando sul consenso facile, sui click facili invece che continuare ad andare a caccia di notizie, proporre approfondimenti magari recuperando anche un po' il gusto dell'informazione di servizio che è importante per ciascuno di noi e per ciascuno dei settori di riferimento a cui ci rivolgiamo il fatto di avere riconosciuto il valore e l'impegno di tanti colleghi qui è una cosa che mi rende comunque davvero orgoglioso e mi regala soddisfazione mi fa capire che c'è un'attenzione davvero importante a questo settore e penso che avere una professione meno autorevole, meno indipendente sarebbe un danno per tutti per questo penso che chiunque lavori nel campo della comunicazione debba sforzarsi di farlo con la massima cura possibile a prescindere dal ruolo, dal prestigio della firma e dal campo di specializzazione io per esempio ho lavorato sempre in un campo piuttosto specialistico sono a sole 24 anni, ho attraversato le varie anime del gruppo ora come dicevo sono capo servizio di questo quotidiano digitale che si chiama Enti locali ed edilizia e che offre appunto informazioni di servizio a favore delle amministrazioni delle professioni, delle imprese il fatto che questo premio si sia accorto anche di queste realtà un po' più specialistiche secondo me è un punto di merito che va ancora a maggiore onore di chi ha organizzato questa iniziativa piuttosto che nei confronti di chi riceve magari indagnamente come me questo premio grazie ancora davvero grazie